Allora ragazzi, voglio precisare una cosa, ieri sera nella live di Spacca forse non mi sono fatto capire, mi sono spiegato male, però mi sono riletto tutta la documentazione di questa condanna. La Juventus è stata condannata per articolo 4 che è sleatà sportiva che non ha nulla a che vedere con le plusvalenze, non ha nulla a che vedere con le plusvalenze, quindi la Juventus è stata punita con un articolo 4 per sleatà sportiva in un processo per plusvalenze, ditemi voi se è una cosa normale, quindi di normale in questa sentenza non c'è nulla, faranno un processo, proveranno che la Juventus è stata sleale per articolo 4, per i bilanci, per gli stipendi e per tutto e la condanneranno, ma per le plusvalenze non c'è l'articolo 4, quindi caro Spaccacalcio, a te piace fare il teatrino, fai il teatrino, fai quello che vuoi, ma fammi passare per scemo a me e non ci riesci, perché io le reggo le cose, tu probabilmente no. Comunque ragazzi, io se c'è una giustizia questo meno 15 va annullato, poi magari ce lo ridaranno nell'altro processo, il meno 15, ma questo va annullato, non esiste, non esiste questo processo qua, non esiste, hanno messo, hanno condannato la Juventus in un processo per plusvalenze con un articolo 4, mi sembra una cosa molto bizzarra questa qua, forza Juve sempre ragazzi.